Allora, ciao a tutti, mi avete chiesto, alcune di voi insomma, mi hanno chiesto se vi faccio vedere come dispongo le cose nell'armadio. Allora, intanto inizio dicendovi che io penso di essere un'accumulatrice seriale, nel senso che mi dispiace dare via i vestiti, gli butto via soltanto quando proprio sono scuciti in maniera che non si possono riparare in nessun modo, altrimenti io qualsiasi cosa la tengo, se sono maglie o pantaloni che non metto più, di solito le metto magari per andare a fare delle camminate, per andare qua giù in giardino, per fare le pulizie a casa, le metto un po' così, quindi io difficilmente butto via le cose, almeno che ovviamente, beh ho delle maglie che effettivamente andavano ancora alle medie, alle medie penso siano passate i secoli, e ecco, per dire, quindi vi prego, sicuramente può essere che abbia dei commenti negativi, perché per la troppa roba che ho, ma ve l'ho detto io penso di essere un'accumulatrice seriale, non lo so, però ecco, vabbè, vi faccio vedere come divido le cose, siate clementi con i commenti. Allora, innanzitutto qua sotto sono i pigiami invernali nella scatolina più piccola, Allora, io non so se li notate, i pigiami li piego arrotolandoli, perché mi hanno insegnato, perché praticamente, invece di piegarli nella solita maniera, se voi li arrotolate vi occupano meno posto, e vi assicuro che è vero, voi prendete, aspettate, vediamo che vi faccio un esempio, oddio, vi ho messo il dito davanti, tipo no, questa è la mia camicia da notte, per esempio, voi, ok, la piegate, io adesso con una mano faccio un po' fatica, gli date più o meno una piega, e cominciate ad arrotolarla così, tipo salamella, per intenderci, e vi occuperà molto meno posto. Poi, anche qui, questo qua, sono tutti i pigiami invernali, e sopra ci sono delle felpe invernali che uso da stare in casa se magari c'è freddo. A volte siamo fuori tutto il giorno, il riscaldamento non viene acceso, e ovviamente prima che poi il riscaldamento accenda la casa, c'è un po' freddino, e quindi ho queste felpe qua. Poi passiamo agli altri due, questi sono tutti, allora, questi sono i miei pigiami, camicia da notte, e i pigiami. Questi qua sono piegati normalmente, e sono estivi. Mentre queste qui, sono le vie di mezzo, e vedete che sono arrotolate. Nel senso che qua ci sono i pigiami leggeri, ma a maniche lunghe, pantaloni lunghi, e camicia da notte, questa qua, a maniche lunghe. Perché ho fatto questa distinzione? Perché intanto ultimamente qua ho fatto delle sere veramente temporali e freddo, e ecco che magari mi serviva una maglietta, non tanto i pantaloni, ma magari vedete che ce l'ho fuori, la maglietta a maniche lunghe. E qua ho messo quelli più leggeri, proprio senza maniche, eccetera. Le casse sono comode perché, vedete voi, basta che le tirate via, le tirate giù, e quando vi serve la roba invernale, fate semplicemente il sottosopra. Un'altra cassa che ho comprato, qua arriva di più il casino, e poi vi spiego perché ho le robe intorno, è questa qua grossa, questa racchiude tutti i pantaloni, quelli sportivi, sia corti, sia lunghi, sia a metà per intenderci, tipo questo qua è una sottospecie di culotto, che uso ovviamente per stare in casa, per fare ginnastica, per fare le pulizie, sono tutto insieme, nel senso che ho voluto usare uno scatolone solo per mettere l'invernale, l'autunnale e l'estivo, a parte la culotta che è finita qua, è finita tra l'invernale perché non la metto quasi mai. Di lato, qua, ci sono i pantaloncini che sto usando più spesso, quindi questi qui, quelli neri lunghi, e quelli là bianchi di un tessuto strano, che invece devo capire cosa fare perché sono tutti macchiati. In alto c'è una giacca da stanza in pile, e questa qui fatta di spugnetta, e i pantaloni lunghi un po' più pesantini, perché li ho messi fuori dalla scatola? Perché quelle lì, ve l'ho detto, sono le cose che uso in assoluto. La giacca da stanza in pile, tre settimane fa l'ho dovuta usare perché c'era veramente freddo, e quindi l'ho tenuta lì a portata di mano, non si sa mai. Qui l'altra è a maniche corte, i pantaloni lunghi, però le tengo proprio come la giacca da stanza in caso di freddo. È tutto qua, praticamente, la mia parte dove ho le scatole. Ho sia l'invernale sia l'estivo, cos'altro posso dirvi? Ah, vi posso consigliare appunto il metodo di arrotolare le cose tranquillamente, soprattutto se si tratta di pigiami e ovviamente cose che non si distirano in maniera grossa, o anche ho arrotolato i pantaloni. Se avete poca roba, appunto, vi basta uno scatolone tranquillamente grande, e vi consiglio di dividerla a strati, cioè adesso che c'è caldo tenete la roba invernale sotto, la roba meno pesante sopra e la roba estiva proprio all'ultimo lato. Alla fine farete presto quando dovrete fare il cambio dell'armadio, perché basterà soltanto che la roba estiva sopra la tenete da parte, o se no tranquillamente potete prendervi come questo ultimo qua, delle scatole più piccole che così dovete semplicemente cambiare posizione. Altre cose che ho nelle scatole, scusate devo ancora fare il letto, è questa scatola qui, qua praticamente quella è da 99 centesimi, ho messo dentro, vedete che io poi suddivido ancora in altre scatole, ho messo dentro tutte le mie cose, nel senso braccialetti, questi sono orecchini, questi sono orecchini che facevo io, e roba è così, insomma tutto dentro alla scatola. Un'altra scatola sempre di Ikea, vedete il macchio, è questa qui, scusate c'è anche il mio piede, aspettate che ve lo sposto dalla visione, è questa qui piccolina, e qua invece all'interno ci tengo le cose un po' più di valore, tipo, sono tutte cose comunque di Swarovski, vedete, e orecchini, braccialetti, quant'altro, che sono appunto di Swarovski, e se no poi c'è una spilla che mi aveva regalato una mamma di un bambino anni fa, l'avevo usata per Natale in feltro, roba che non vorrei che si rompessero, e poi ci dovrebbe essere sotto tutto, in questa scatolina qua di Gucci, degli orecchini che ho fatto io, vediamo perché con una macchina è un po' un problema, sì con una macchina, con una mano, eccoli qua, c'è questo, e poi, vabbè la coppia ovviamente, e poi invece questo qua che era tutto sul verde, comunque ecco, come potete vedere praticamente io metto tutto in scatola, e niente, questo qua è quanto, non so dirvi se ne comprerò ancora, non so dirvi come, con cosa farò ecco di altre scatole, però io ve le straconsiglio perché le scatole sono comode, perché avete tutto dentro, anche per i vestiti nel cambio dell'armadio, basta soltanto tirar fuori la scatola quella invernale, metterla al primo piano, e fare il cambio, quindi sono straconsigliate, se avete domande o qualsiasi dubbio, lasciatemi pure un commento sotto, che vi rispondo volentieri, io vi saluto, ciao!